buonasera benvenuti tutti che sigarette nei mano che fa fare che siamo all'aperto ma fate un applauso non è che siete stanchi da ieri sera ancora ci siamo messi qua sotto la pista coperta perché fa un po' freddo siccome noi siamo diciamo abituati alle cose calde infatti stasera sono delle ballerine di Las Palmas quindi sono delle terre molto calde ma stasera di caso non c'è mai un cuculo in cauro perché ormai è raffreddato perché molti di voi ieri sono stati beccati nel bosco vero? eh? ma non ce n'è i lupi nel bosco completamente poi chi è quella la che era legata nell'albero è stata frustata e diceva dai 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 eri tu? tutto veniamo a sapere tutto tutto e quell'altro col hanno trovato un ombrellone non l'ombrellone diciamo la parte che si apre il bastone con due preservativi dentro che vuol dire a te che è? addirittura lui è stato avvicinita? Avelina? allora speriamo che questa benedetta estate arrivi presto perché proprio non ne possiamo più c'è qualche coraggioso qua che ieri si è fatto il bagno in piscina no? sarà ospitato il recuperato tu? ti vedi sto bagno? ma come? appena sei uscita com'era? come oturrone vero? e va bene riscalderà prima o poi riscalderà prima o poi infatti io stasera volevo uscire sul palco da quella parte no? col mio butto alle spalle che ci segue ovunque quel butto ormai lo buttavo magari ok brai non mettevo il suo camion che dice lei vero? truccatissima lei non ne esci mai ma da volta che ne esci ci ha vestuta direttamente complimenti è il vicepresidente di Arciglia e Catania mai ne esci ma quando ne esci se non si trucca non è lei va bene complimenti allora maestro musica ecobartic gruppe ecobartic gruppe in collaborazione con tegas osclavo presenta con questo fea 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 rara o special androgyna però fea è il fai è il fai e è il fai è il fai Sì Sì Ti gusti Non ti culpo E stanocce Ti varei la del pulpo Che culo di fora Mamma mia Eh Buonasera Poi lei è la prima volta per il suo nome che sbaglio vuol dire è un nome scusi il mio parlare così un pochettino tipo liotro è un nome ma lei a cosa si è ispirata alla spalla ho capito brava è di reggio Calabria la ragazza per chi non lo sapesse quella è una canna loro scusi un pochettino avanti per favore come cazzo fanno con questi tacchi non lo so piaccio un po' con magari scauso benissimo girati girati falla girare ah che culo allora ecco qua benissimo ma tu il nome ancora non te lo sei come cazzo Eris il tuo culo è meglio che lo facciamo vedere perché manco tante pelaste Nettunia Nettunia che bella benissimo sono curioso di vedere questa sigla di sentire di vedere questa sigla la possiamo fare? ci siamo? siete curiosi vero così quelle ormai le abbandoniamo basta changer la vita ok maestro de music guarda piccolo new message Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.